Ciao Butei, Ancon siamo a Marniga, un paesino della costa veronese del lago de Garda e Ancon andremo a fare un'escursion a Campo di Brenzone, il paesino dei poeti e degli artisti, un paese cosiddetto disabitato, raggiungibile solo a piedi e forse per questo disabitato o abitato da pochissime persone, molto molto bello. Grazie a tutti Grazie a tutti e più manco 25 minuti si arriva a Campo, Borgo Medievale, al primo tocco le asfaltate le veramente veramente in piedi, dopo di che questa stradella è in mezzo agli olivi, tenui benissimo i par giardini su per cure e alla fine si arriva a Campo. Grazie a tutti i nostri amici. 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 Grazie a tutti i nostri amici.